Prima di iniziare il video volevo salutare Morewood97, ciao! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio il primo video di Animal Crossing. A volte si potrebbe muovere lo schermo perché io sto giocando con la mia Nintendo Switch e sto registrando col tablet. Mi pare... cioè allora, spero che avete capito che a me non piace... cioè che a me piace complicarmi la vita. Una volta questo l'ho fatto anche con Minecraft e è venuto uno schermo. Però adesso è molto più stabile. Devo ricordare... Allora, c'è la posta di bicicletta... Gesso... Ah, pantalona da sogno... Pornellino da tennis... Maglia a riga... Va bene, poi li prendo. Mi vado a cambiare. E allora, oggi... Perfetto, non mi devo manco svuotare l'inventario. Andiamo a vedere che cosa c'è qui. E poi vado a fare qualche soldo. Non ho visto quanti soldi avevo però. Io poi farò così. Che cosa c'è? Comunque io sto guardando sempre dal tablet. C'è un condizionatore che non mi piace. Che cosa sarebbe sta cosa? Un panno? So che si vede bene perché io non guardo dallo schermo. Anche perché è impossibile guardarlo. Vedo che ti ho tesso un foglio spiegato. Spiegato nel senso che ti spiegano cosa devi fare. In che senso? Un foglio spiegato. Se mi piace questa serie, Somongas, ditemelo. Perché io poi... È difficile. Non ne faccio altri se non piace. Vedrei in base alle visualizzazioni anche i like. Penso che avrò poi le braccia morte. Vedo questo video. Spero che ne vada. Vado la pena. Oggi non c'è KK. Il coso? Il cantante, il cano. Quanti soldi ho? 26.000 E alla fine del video, anzi... No... Sì, alla fine del video... No, all'inizio. Ragazzi, voi lo vedrete all'inizio che saluto una fan. Ma a me è venuta l'illuminazione adesso. Aspetto che prenda fuoco. Perché volevo salutare una fan che me l'ha chiesto. Ok, così. Così si vede tutto. Che mi ha chiesto due giorni fa di salutarla. L'ho visto soltanto adesso il suo commento. Più in qua. E la saluto. Ma che... Ah, è quel bordino nero mio. Allora, 42. Allora, rimborsa. Usa contante. Facciamo 10.000. Ok. Allora, non ero io che lo mettevo male. No, vabbè, ragazzi. Non mi voglio annoiare troppo. Poi dovrei fare un servizio fotografico per un matrimonio. L'ho fatto pure l'anno scorso. È una noia mortale. Perché ti devi mettere ad arredare per il matrimonio. E poi devi fare pure le foto. Avevo voglia di partire oggi con voi. Tanto l'inventario ce l'ho... Buono, e prendo la barca. Ho trovato il bambù, ragazzi. Ho trovato il bambù. Per chi lo pensa... Per chi guarda Steph... Non sono quella Steph che adora il bambù. Io adoro il bambù. Perché io adoro i panda. E quindi panda più bambù... Vero coppia che scoppia. E poi una mi aveva chiesto di far vedere la mia casa... Quella degli animaletti su Toca. E prima o poi ve la farò vedere. Cioè, un giorno ve la faccio vedere. Quante miglia ho? 4600... Sì, ok, partiamo. Vediamo se... Cioè... Il solo pensiero del video mi porta fortuna. Vorrei... Allora... Levo la canzone. Cioè, che la schippo. E si schippa cliccando più volte il meno. O più. Clicchiamoli entrambi, ragazzi. Non ce la faccio. Ragazzi, vi stoppo il video così che... Con la scuola mi sono riposata le braccia per un minuto e mezzo. Non pensate sia facile perché... Non è vero. Questa, aspettarti... Va bene. Tanto non mi servono gli strumenti perché... Le ghiande ho trovato! E... Le... Che... Che cosa sono? Da oggi l'orario per pubblicare sono le 6 e mezza. Non riesco a prendere l'area back. Un attimo, ragazzi. Va bene. Che cavolo è? È normale che si veda giallino perché si vede così giallino anche nella Nintendo Switch ho controllato. un attimo. Un attimo, ho preso due. No dai, due no, due sono poche. Poi me ne vado. perché non mi piace quest'isola comunque la frutta è sempre la pera bene che mi piace la pera ma preferisco la ciliegia che tasto devo usare devo dire la verità sono mille miglia buttate al vento prendo questo corallo bravo io me ne andrei anche perché non mi piace quest'isola le ho prese le tre ghiande voglio tornare a casa no ma la canzone di no non la voglio comunque la mia isola si chiama amicizia questo mondo l'avrò fatto tipo un anno e mezzo fa non sapevo come chiamarlo e ho pensato all'amicizia mia figlia è la luce dei miei occhi questo me lo dice sempre mia nonna sei la luce dei miei occhi quando usci dalla pancia di mamma stavo leggendo cavolo ma perché non cantare in italiano anziché cantare in qualche lingua aramaica antica in giappo cinese come si dice nella applaudiamo per quanto stono quel primo video secondo me va bene poi volevo far vedere casa mia e poi volevo staccare ciao ciorvino io mi chiedo una cosa perché nei video divertenti di animal crossing ci sono sempre scorpioni tarantole non mi ricordo cosa io ho visto un solo scorpione in un anno che ho giocato animal crossing tarantole mai visti infatti ero scioccata da quando esistono ah e le vespe le vespe si le ho trovate qualche scarafaggio blatto coleottero allora qua evviva non c'è più traccia di scarafaggi qua c'è il bambino qua c'è la mia sala pranzo il mio soggiorno e la mia cucina poi qua c'è la mia camaraderetta non sapete quanti milioni dovete spendere non potete capirlo e qua c'è la mia camaraderetta molto carina direi ragazzi il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video ciao